Tra poche settimane la Fiera Internazionale dell'Orificeria sarà ospitata dall'Arezzo Fiere e Congressi esattamente nei primi giorni di maggio. Intanto nella categoria c'è forte preoccupazione per due motivi. Il primo sono gli assalti subiti appunto dalle aziende Orafe e Argentiere, uno degli ultimi pochi giorni fa, e poi il prezzo del metallo prezioso che è salito alle stelle. Ora Arezzo sarà a breve e vedremo cosa significa questo balzo del prezzo dell'oro, vedremo cosa significa questa escalation di guerre che invece di ridimensionarsi si sta allargando. Andiamo logicamente alla nostra fiera, alla fiera della nostra città, ci sarà sicuramente tanta gente ma è il momento clou per capire se i mercati continueranno a un trend positivo oppure ci sarà una frenata. Una frenata è già stata data in maniera abbondante dal rialzo del prezzo dell'oro che nell'ultimo mese e mezzo è passato da 50 euro a 70 euro al grammo. Ha avuto un balzo incredibile e già gli ordinativi di per sé si sono diminuiti se non quasi fermati.